Nella serata di mercoledì nella fantastica cornice di Palazzo Averoldi in via Moretta a Brescia il fotografo Sergio Corbelli ha presentato il suo libro fotografico intitolato Click coinvolgendo i presenti attraverso la proiezione delle immagini che si possono ritrovare all'interno del libro stesso Allora l'avventura di mettere insieme questo libro risale a tre anni fa mi è venuta l'idea attraverso varie mostre di raccogliere tutti i lavori che avevo fatto per poi pubblicarli sono raccolti in un volume fotografico un po' diverso dal solito perché non tratta una tematica unica ma racchiude proprio il mio vissuto degli ultimi otto anni Grazie a Why Not io posso con eventuali vendite di questo libro e quindi dare il contributo come mio contributo personale alle popolazioni terremotate che ne hanno tanto bisogno e quindi in questo caso i proventi vanno alle popolazioni terremotate Il libro è stato proprio concepito in questo modo, le vendite, io non ne ricavo niente ma le vendite vanno a favore di chi ha bisogno Viaggio nei ricordi perché raccoglie tutto quanto io ho vissuto e fotografato sono i momenti più, dal punto di vista emozionale, più forti nel mio peregrinare ma anche nel quotidiano per cui sono immagini raccolte in maniera molto semplice che cercano di mettere in evidenza la semplicità di tutto quanto ci circonda e apprezzare la bellezza di tutto quanto ci circonda Il libro si trova nelle librerie ordinandolo oppure Serra Tarantola che è stato l'editore che mi ha permesso appunto di pubblicarlo Fondamentale il sostegno dell'associazione Tavola Rotonda Why Not sempre in prima fila nelle occasioni di stampo culturale Esattamente sì, è un libro di Sergio Corbelli, un libro fotografico che racconta svariati viaggi che lui ha affrontato e li racconta tramite le immagini Esattamente sì, anche nella mission dell'associazione c'è anche la parte culturale e infatti oltre a quella culturale anche quella sociale Per seguire un filone degli ultimi mesi della raccolta di aiuti umanitari per la zona colpita al centro Italia della terremotata del centro Italia Parte del ricavato del libro verrà donato infatti in beneficenza per la zona del centro Italia Anche Davide Antonioli, moderatore della serata intitolata Un viaggio nei ricordi ha voluto illustrare qualche dettaglio in più Saranno sei sezioni tematiche che appunto ripercorrono un lungo viaggio partito dalla Spagna dove Sergio Corbelli ha partecipato alle prime esposizioni passando per un'isola del Mar dei Caraibi fino ad arrivare da noi a Venezia ma anche ovviamente a Brescia tra le Mille Miglia che è una delle parti più importanti dell'esposizione ma anche alle valli Camune tanto care a Sergio Corbelli Sarà proprio un viaggio sensoriale accompagnato anche da sei tracce musicali che faranno proprio viaggiare idealmente tutti i nostri ospiti di questa serata Grazie a tutti Grazie a tutti